Sconfitta per 3-0 qui a Soverato per il Delta Informatica Trentino, siamo con coach Iosi, una sconfitta che probabilmente si può leggere nei primi due set in favore nettamente quasi della Soverato, nel terzo il rammarico forse per quella rimonta che poi si è chiusa a metà diciamo così. Sì, dici bene, nel senso che sicuramente Soverato ha meritato questa vittoria, l'ha costruita, se l'è giocata dei fondamentali in modo migliore rispetto a noi, purtroppo non siamo riusciti a incidere nei fondamentali che sappiamo fare bene, che sono il servizio, la correlazione muro difesa, cioè un sistema di gioco che comunque oggi non siamo riusciti ad esprimere. Peccato, certamente nel terzo set avevamo provato ad ipotizzare un recupero che poi non si è concretizzato, questo dispiace chiaramente. Si può dire, usando questo termine, bagarre in zona playoff, visto i risultati che stanno maturando, ci sarà veramente da tirar fuori tutto fino all'ultima giornata di regolarsi, sono un campionato che si prospettava equilibrato e difficile e così si sta dimostrando. Esatto, si sapeva a priori che sarebbe stato un campionato assolutamente equilibrato con una serie di squadre che avrebbero potuto figurare in modo egregio in tutto il proseguio del torneo. È chiaro che in questo momento diverse squadre hanno la possibilità di accedervi, noi abbiamo un'occasione domenica prossima in casa con Brescia, speriamo di poterla sfruttare al massimo delle nostre potenzialità e quindi di raggiungere questo risultato che credo ci meritiamo in modo ampio. Costanza Manfredini è una delle principali protagoniste di questa bella vittoria del Valle Soverato, la sesta consecutiva, 3-0 contro un'ottima squadra come Delta Informatica Trentino, momento positivo che continua e quarto posto quasi blindato direi. Sì, era una partita molto importante, per noi era uno scontro diretto quindi consolidare la quarta posizione era fondamentale e diciamo che abbiamo avuto subito un approccio positivo e oggi giocare qua era molto difficile secondo me per Trento perché comunque il pubblico è stato presente dall'inizio alla fine della partita anche nell'ultimo set in cui siamo stati più a punto a punto insomma ci hanno incitato fino alla fine quindi non era facile per loro giocare qui e noi siamo al sesto successo consecutivo quindi insomma un momento positivo e bisogna un po' cavalcare l'onda insomma. Per quanto riguarda la tua prestazione invece punti pesanti, 20 per l'esattezza se non vado errato leggendo gli scout, accoronamento di una prestazione di squadra dove avete dimostrato anche un buon gioco oltre ai diversi fondamentali che avete espresso in maniera positiva. Sì stiamo giocando sicuramente una bella pallavulo, stiamo battendo bene, stiamo mettendo in difficoltà comunque le squadre di ricezione e da lì comunque riusciamo a murare di più, a difendere e a contraattacare comunque con efficienza. Quindi è un lavoro di squadra che sta andando di partita in partita sempre meglio, io spero che possiamo arrivare poi ai playoff con una carica, un gioco ancora maggiore. Una squadra che è un tutt'uno in questo momento con il pubblico che vi ha sostenuto anche nei momenti di difficoltà di questa stagione, adesso però questo rapporto si è cementificato ancora di più se si può dire, sia logicamente per le sei vittorie consecutive ma anche per il vostro grande impegno, il vostro grande approccio alle partite. Assolutamente sì, io sono molto contenta comunque del clima che si respira al palazzetto, è un pubblico diciamo fedele che non ci ha abbandonato in momenti di difficoltà, adesso speriamo insomma di ripagarlo di partita in partita, quindi è bello vedere gente al palazzetto che si diverte con noi. Coach Sai, arriva la sesta vittoria consecutiva, una serie ipoteca su questo quarto posto, una bella vittoria contro Trento in uno scontro diretto, quindi uno scontro importantissimo quando ormai mancano solo due giornate al termine della regular season. Sì, sono molto contento di una prestazione della squadra, di tutta la squadra molto alta qualitativamente, con una qualità muro difesa molto alta, le ragazze sono state molto brave ad imbrigliare Trento con le indicazioni che avevamo studiato durante la settimana e devo dare atto a loro che sono riuscite a toccare e a difendere un gran numero di palloni mettendo in difficoltà una squadra che era sicuramente in forma avendo fatto 3 a 2 contro Legnano e avendo vinto 3 a 2 contro Filottrano nelle partite precedenti. Aspettavamo, ci aspettavamo una gara tirata, lo è stata a tratti ma noi siamo stati molto bravi a disinnescare le loro armi più forti, cioè il gioco con i centrali. Primi 2-7 dove il Soverato praticamente ha sempre condotto, nel terzo stesso Leitmotiv in parte, poi sul 23-18 c'è stata questa rimonta di Trento, però la squadra è rimasta calma, non si è scomposta, ha continuato a giocare ed è riuscita a chiudere il parziale. Sì, bisogna dare atto a Trento che a un certo punto ha cominciato a prendere le misure sul nostro cambio palla e sono saliti un po' con il punteggio. Noi siamo stati bravi a rimanere tranquilli, a sfruttare l'occasione giusta per chiudere il set. Ovviamente con gli scongiuri di rito, ma sicuramente in questo momento il Vole Soverato nel campionato è una squadra molto temuta, sia per lo stato di salute e psicofisica che sta vivendo, ma anche per la qualità del gioco che sta esprimendo. Quindi due giornate alla fine e poi saranno play-off, dove può arrivare questa squadra? Noi ormai da un bel po' di tempo stiamo giocando partita per partita e non vedo contesto migliore, situazione migliore dei play-off per giocare una partita alla volta e lavorare in settimana quando ci sarà la possibilità per aumentare ancora il nostro livello di gioco.